Secondo appuntamento con Musica Fluida, il progetto ideato dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto e dall'Orchestra della Magna Grecia, che unisce musica e cultura. Protagonista Wax, nome d'arte di Matteo Lucido, idolo dei più giovani con all'attivo un EP e numerosi singoli. Durante il suo concerto il cantatore milanese ha regalato le sue canzoni coinvolgendo il pubblico presente in tante emozioni diverse. Giovedì 10 ottobre, terzo e ultimo appuntamento con Musica Fluida, insieme a Holden. In verità vi consiglio di farvi consigliare da chi vi vuole realmente bene, magari la vostra strada, ascoltate la mamma, ascoltate il papà, la famiglia, è importante, le persone che vi vogliono bene e qualsiasi cosa sicuramente accadrà. Mi sveglio ogni mattina con un piano in testa e sperando che appunto questo piano si suoni. Continuate a studiare quello che fate, studiare è importante, ecco questo, studiare. Eccoci, dunque anche questa sera abbiamo avuto una bellissima occasione di incontro tra generazioni, con i ragazzi dai più piccoli ai più grandi, ai genitori, ai nonni che hanno assistito a questo bellissimo concerto di Wax, che è un bel testimonia di questo tempo. È un ragazzo che ha saputo raccontare, anche con molta semplicità, ma anche con molta profondità, quello che ha visto nel museo e quello che ha suscitato la visione della nostra collezione. Per noi è un grande successo riuscire a parlare ai ragazzi attraverso questi testimonial e quindi grazie all'orchestra della Magna Grecia, a questa bellissima collaborazione che abbiamo in atto, della musica fluida, sono certa che riusciremo ad incrementare quanto ancora è possibile l'attenzione dei nostri ragazzi di questo territorio.